Ho trovato un gruppo fantastico che mi ha fatto ambientare subito, una squadra molto forte, ci ho messo poco a ambientarmi. Una grandissima soddisfazione dare una mano alla squadra, sia entrando dalla panchina che giocando dal primo minuto, è sempre bello comunque. Sì, è stata una vittoria fondamentale per il nostro obiettivo, una vittoria voluta e soprattutto cercata. Siamo stati bravi a volerla, i numeri parlano comunque, dobbiamo cercare di mettere qualcosa in più, soprattutto in casa, per cercare di sfatare questo tabullo.